Ciao, in questo video andremo a configurare LDAP nel firewall palo alto. Andiamo a configurare un attimo Active Directory con delle unità organizzative e dei gruppi e ovviamente ti spiego che cosa sto facendo, così che poi quando andremo a applicare la configurazione al firewall avrai più una visione di insieme. Se eventualmente ti interessa solo la parte di configurazione delle DAP, c'è il timestamp e puoi schippare questa parte qui. Allora, sempre lo stesso laboratorio, però questa volta è un pochino diverso. Abbiamo questo server acceso. Allora, prendiamo il server e guardiamo. Io per praticità e anche per velocità ho creato già alcuni utenti. Mancano le unità organizzative e i gruppi che li andremo a fare insieme questi però. Allora, io ho creato un utente che è 2FE, poi ho creato un no two-factor authentication, questo ti spiegherò poi perché. Poi, vabbè, ho user1, user1 e utente HR. Non useremo soltanto questo, two-factor authentication, no-factor authentication e utente HR. Dentro la cartella crazy-net user vado a creare un'altra unità organizzativa, che è quella qui, e la chiamiamo each. Poi andiamo a creare anche altre due unità organizzative e la chiamiamo two-fa-user. E poi, l'ultima, infine, andiamo a creare un'altra unità organizzativa con no two-fa-user. Ok. A questo punto andiamo a creare un gruppo. Qui i gruppi, eh. Attenzione, gruppi, gli utenti, è un'altra cosa, come sai bene. Se invece non lo sai, ti consiglio di guardare il video che ho realizzato su ActiDirect. Quindi, andiamo a creare un gruppo per gli HR. Groups. E lo chiamiamo utenti. Ed eccolo qui. In questo gruppo, proprietà, e ci andiamo a inserire l'utente, in questo caso, HR. Ok. Poi, qui, è two-factor authentication users. Ok. Quindi, gruppo, lo chiamiamo, nome di fantasia, two-fa-user. Vediamo che me lo prenda, perché già si chiama l'unità organizzativa. Poi, ah, scusatemi, in questo gruppo ci aggiungiamo l'utente, two-factor authentication. Membro, due, check name. Ed eccolo qui. Ok. Ok. E ok. Poi, infine, andiamo a creare un gruppo, che è no two-fa-user. Bene, dobbiamo capire una cosa. Ci serve di creare un utente con soli permessi in lettura, che normalmente tutti gli utenti di dominio hanno solo i permessi in lettura. Però si può essere più specifici. Un utente, srv, underscore, palo, alt. Ora, in questo laboratorio, perché è solo una dimostrazione, io vado a mettere una password che è admin123. Però, se è in produzione, la password deve essere complessa. Poi seleziona anche user cannot change the password, e password never expires. Admin123. Admin123. Fine. E questo è quanto, per quanto riguarda Active Directory. Adesso, via questo, e andiamo sul nostro bellissimo firewall, che è quello qua. Fatemi aggiornare la pagina, perché non so se ha fatto il logout in automatico. Allora, andiamo a configurare LDAP. Per far questo, clicchiamo qua su, in alto, su device. Clicchiamo qui, in basso a sinistra, su LDAP. Poi, in basso, add. E lo chiamiamo LDAP server. Perché, chiaramente, ne puoi avere più di uno, quindi uso un nome generico. Add name, srv01. LDAP IP, quindi il mio server è 80.100. Porta389. Ora, per sicurezza, sarebbe opportuno configurare LDAP con SSLTLS. Poi tolgo qui, required SSLTLS. Type, Active Directory. Bind, lo lascio per il momento, lo lascio vuoto. Poi, binddn. Hai differenti opzioni, si può fare che lo scrivi tutto manualmente, poi farlo con l'username e password. Noi andiamo a farlo con l'username e password. srv, palo alto, at crazynet.local, password admin123. Ora, se tutto va bene, lui qui ci dovrebbe dare il base dn, distinguished name, dc uguale crazy, crazynet, virgola dc uguale local. E selezioniamo questo. E clicchiamo ok. A questo punto, andiamo su user authentication, qua su in alto a sinistra. Clicchiamo su add. Qui diamogli un nome, in questo caso è il LDAP SRV0. Server profile, LDAP server, che è quello che abbiamo appena creato. Gruppi. Poi, clicchiamo su group include list. E se tutto va bene, dovrebbe mostrarci gruppi. Ed ecco tutte le unità organizzative del nostro server. Quindi noi dobbiamo cercare. l'antia organizzativa, crazynet user. Poi, come vedi, qui ci sono dei gruppi, che questi riguardano, per esempio, per il video del protocollo 802.1x. Allora, abbiamo il primo, 2FA users. Quindi è 2Factor Authentication User Group. E clicchiamo qui, sul più. Selezioniamo il gruppo, e poi più, e ce lo troviamo qui sulla destra. Poi, i char, stessa cosa. Clicca sul gruppo, più, e lo trovi di qui. E poi abbiamo questi. No 2Factor Authentication. E basta. A questo punto, siamo contenti, ci bastano questi tre gruppi. Chiaramente, se hai più gruppi nella tua azienda, li devi aggiungere tutti. Poi, a questo punto, andiamo su Authentication Profile. Qui, se ti ricordi, nel video precedente, avevamo creato gli utenti locali. Adesso andiamo a creare, invece, i due utenti. Quindi, clicchiamo su Add. Qui, diamogli un nome, per esempio, LDAP Profile, o User. Type. Selezioniamo LDAP. Server. LDAP. Questo è molto importante. Login Attribute. Bisogna scriverlo, come lo vedi qua, perché è Cave Sensitive. Quindi è S, Ama. Poi, Account. Name. Questo serve, in Acti Directory, un attributo che serve per individuare gli utenti in modo univoco. Poi, Advanced. Qui clicca Add. E diamogli All. Ok. Una volta che ha completato, possiamo provare a fare il nostro login con l'utente Valerio. Valerio. Login. E guardiamo se funziona. Sembrerebbe proprio che funzioni. Una volta che avrà fatto l'accesso al firewall, ci darà per la prima volta, perché è la prima volta che faccio l'accesso, quindi darà appunto il Welcome, la finestrellina tipica di Palo Alto, e in basso a sinistra, troveremo l'utente logato Valerio. In questo caso, su questo firewall qui, vediamo Admin, stessa cosa, dovremmo vedere Valerio, che lo vedremo. Ora, è un pochino lento, perché il modello di questo Palo Alto è già lento anche nella realtà. In più è, come dire, nella macchina virtuale, eccetera, quindi abbiate pazienza. Ok. Don't show this one anymore. E qui in basso troviamo, appunto, Valerio. Ora, siamo in grado di poter fare il login con Valerio. Ok. Andiamo su Authentication Profile ancora. Scriviamo il nostro LDAP e cambiamogli il nome, diamogli LDAP Use Not To F. Questo così ci aiuta a capire che gli utenti di quel gruppo sono senza il Multi-Factor Authentication. Se volessimo fare il Multi-Factor Authentication, stessa cosa. Chiamiamolo LDAP Users To F A. Stessa identica cosa. LDAP Server Name lo chiamiamo LDAP. Attributo AMA Account Name Mi raccomando, rispettate le maiuscole e le minuscole. Utenti Tutti Oppure se vuoi qui ora ci appare questo perché si sta caricando e gli dici Two-Factor Authentication Users Oppure tutti perché in teoria dovrebbero essere tutti. Poi ora ti spiego perché a volte sì e a volte no. Ci arriviamo. E poi qui possiamo impostare il Two-Factor Authentication che te lo farò vedere nel prossimo video con Duo perché è stato richiesto da un utente sul gruppo di Telegram e quindi lo farò specificatamente per Duo. Quindi a questo punto poi ti premi OK e qui ti appare così. Stessa cosa qua è il DAP No To F A. Io gli ho detto tutti e tutti si intende tutti. Però chiaramente io qua gli posso dire No To F A. Prima non me l'ha fatto vedere quando l'abbiamo configurato prima perché deve caricare i dati dall'Acti Directory e non è proprio immediato. E quindi gli diamo OK. Ora cosa altro possiamo fare quando integriamo il firewall con Acti Directory? Riprendendoci al video precedente se vado su Network vado su Global Protect Portal CrazyNet Portal che è lo stesso profilo della volta precedente Authentication CrazyNet Client qui vedi che c'è utenti locali perché sono quelli locali del firewall noi vogliamo usare quelli degli Active Directory quindi facciamone un altro. Clicchiamo Lo chiameremo GP che sta per Global Protect VPN User poi qui selezioniamo To Factor Authentication e clicchiamo OK. Semplice così poi quando proveremo a collegarci con la nostra VPN lui chiederà l'autentificazione con il Multifact per il momento lo lascio così. Poi chiaramente chiaramente non te l'ho detto prima nella configurazione dell'Acti Directory dovremmo creare anche un'altra unità organizzativa che io la creo adesso anche se non farò il video per il To Factor Authentication ma nel prossimo video lo vedrai quindi la creo adesso per appunto GP VPN Users perché magari tu vuoi che tutti gli utenti si possano collegare alla VPN solo una parte degli utenti si può collegare via VPN quindi crei un gruppo dove poi ti aggiungerai appunto gli utenti. ultima cosa che è interessante vedere è la parte delle policy con Acti Directory allora appena ci fa vedere le policy come vedi queste sono due policy molto semplici perché questa permette tutto il traffico dall'interno verso l'esterno e lì finisce la storia perché quindi tutti gli utenti di questa rete possano andare dove gli pare oppure qui su Source Users clicchiamo Add Utenti Char questo è perché ecco perché prima ho creato l'unità il gruppo Human Resources i Char Destination quindi possiamo dire Any oppure se hai più zone puoi dirgli la zona specifica Destinazione per esempio mettiamo un indirizzo a caso 168 90 punto 0 slash 24 Applicate Any e attenzione anche qui con un firewall di vecchia generazione te apri e chiudi le porte e va benissimo con un firewall di nuova generazione come per esempio questo di Palo Alto è meglio autorizzare le applicazioni più che le porte ma ora ti faccio vedere anche una cosa che magari non la sai e quindi ti faccio vedere per esempio qui gli potremmo dare SSL quindi il web la porta 443 e basta e possano aprire solo i siti in HTTPS se in HTTP no poi se non ricordo male per i siti HTTP si chiama web browse o browse web web browsing eccolo qua così apre la porta 443 e la porta 80 premiamo ok e la nostra policy user based è fatta eccola qua vedi utenti user quindi solo gli utenti di questo gruppo saranno autorizzati andare su quella rete specifica con queste applicazioni specifiche ti faccio vedere un'ultima cosa che è questa mettiamo caso e nelle aziende nelle aziende a volte se non spesso succede che un sito è HTTPS indirizzo vattelapesca punto local due punti porta 4.000 quindi che succede che con la policy che abbiamo fatto adesso non potremmo aprirlo il sito web allora in questo caso dovremmo dargli qui sempre l'application inspection quindi SSL poi se andiamo su server poi andiamo su server qui gli diamo add e poi cerchiamo se c'è una porta disponibile che è la 4000 che in questo caso non c'è io metto 8080 che ci dovrebbe essere non c'è va bene la creiamo file new tc 8080 8080 e ok e quindi che sta a significare che il traffico HTTPS è permesso e l'application inspection funziona sulla porta 8080 e se lui proverà ad aprire un sito invece normale internet per esempio non lo potrà aprire perché l'applicazione è legata alla porta quindi se l'applicazione non match a quella porta specifica in questo caso 8080 l'access list non ti funzionerà e questo lo tolgo ecco questa è come si integra con Active Directory la configurazione come hai visto è molto semplice l'importante ti consiglio una accurata pianificazione delle unità organizzative di Active Directory e dei gruppi di Active Directory per essere più efficiente e efficace quando poi vai a scegliere gruppi perché altrimenti potresti un po' andare nel pallone detto questo ti ringrazio per guardare questo video e al prossimo se ti è piaciuto il video lascia un mi piace di supporto se non sei iscritto al canale e trovi questi video utili iscriviti al canale ok Grazie.